Ha detto di chiamarsi Giuseppe Sanfilippo Fridola, nato nel 1974 nella provincia di Catania, come testimoniato dai documenti che gli sono stati trovati addosso. Così ha parlato Giuseppe Falsone, davanti al presidente della Corte d'Appello della cittadina della Provenza, Christian Bley, che deve decidere sulla sua estradizione. Davanti al giudice, l'ex Primuna Rossa, ancora una volta, ha negato di essere Giuseppe Falsone, il capo di Cosa Nostra Grigentina, arrestato la scorsa settimana a Marsiglia, ma di chiamarsi appunto Giuseppe Sanfilippo Fridola. Ma il presidente ha però spiegato che le verifiche sulle impronte digitali hanno portato alla conclusione formale che l'uomo arrestato sia davvero falsone. Di parere opposto l'avvocato francese dell'ex latitante che è stato ammesso d'ufficio, il quale ha chiesto ulteriori informazioni e verifiche a sostegno del suo cliente. In Francia in questi giorni si trovano anche il procuratore aggiunto di Palermo, Vittorio Teresi, e il sostituto procuratore della Repubblica, Fernando Asaro, entrambi delegati dalla direzione distretto all'antimafia. I due magistrati hanno l'interesse preciso di riportare il primo possibile in Italia l'ex latitante di Campobello di Licata. Entro una settimana, Falsone, salvo imprevisti, sarà estradato e consegnato nelle mani della polizia italiana.